Le potenze che hanno dominato il mondo attraverso l'impero coloniale che ciascuna di esse si è creato, l'Inghilterra soprattutto, ma anche la Francia, a suo tempo anche l'Olanda e poi la Spagna, vecchi imperi tradizionali, hanno progressivamente concesso un allargamento di diritti anche a ceti popolari al proprio interno, ma calpestando i paesi dipendenti, i paesi da loro dominati. Perciò lui usava questo termine, la democrazia dei signori, cioè di coloro che comandano e poi ci sono altri altrove che non si vedono tutti i giorni che obbediscono, che subiscono. Il fenomeno non si è esaurito, si è trasformato nel secolo ventesimo, dopo la seconda guerra mondiale, il fenomeno della decolonizzazione, che è un grande fenomeno storico, è stato contrastato dal neocolonialismo, cioè altre forme di dominio non più territoriale immediato, visibile, ma non meno pesante, oppressivo e alla fine anche perfido, perché consisteva nel dividere gli altri, catturare un'elite locale e con lo scambio diseguale conservare il predominio dei pochi sui molti. All'interno delle nostre realtà occidentali, di cui si vanta sempre la bellezza insuperabile, eccetera, nell'ambito delle quali ormai c'è una cesura sempre più profonda tra il cosiddetto popolo disprezzato con l'aggettivo populista, populista serve a dire io disprezzo il popolo, quello vuol dire sostanzialmente, e le elite più o meno ampie, soprattutto urbane e soprattutto dei quartieri più ricchi, insomma meno sofferenti delle grandi metropoli, che sono diventati ormai il soggetto politico che manda in Parlamento i suoi rappresentanti, che ha un suo referente nei governi che volta a volta si susseguono e emblema, potremmo dire, di questa profonda trasformazione è un partito politico italiano che si chiama Partito Democratico, va bene, quindi addirittura vuole il copyright di questo concetto ed è particolarmente caratterizzato dalla lontananza ormai definitiva rispetto a quei ceti popolari non più rappresentati nelle sedi politiche che vengono abbandonati a una deriva e votano a destra. Perché? Perché la destra si presenta con parole più semplici, attraenti, comunque fa leva su un disagio vero e quindi si cattura un elettorato che in passato trovava nelle formazioni politiche di sinistra la propria rappresentanza. Questo è il senso della democrazia dei signori. I lati concreti, gli aspetti concreti della disuguaglianza sociale, della quale si potrebbe parlare a lungo perché si è molto aggravata negli ultimi anni con la demolizione progressiva dello stato sociale. Comunque i fenomeni più visibili di questa disuguaglianza crescente li potremmo indicare in due elementi. La delocalizzazione selvaggia e la insicurezza mortale sul lavoro. Come hanno affrontato la questione? Notare che entrambi sono appannaggio o ambito di un ministero che in questo momento è presidiato da un esponente del Partito Democratico. Questo è fuori dubbio. Sì, oligarchia è un termine antico, è un termine greco che mi fa venire in mente un celebre passo della politica di Aristotele. Lui dice che se una minoranza di poveri governa, numericamente una minoranza, quella è una democrazia. Se una maggioranza di possidenti, lui dice, perché il termine è quello, governa, anche se una maggioranza numerica è una oligarchia. Quindi ha un'idea sostanziale, diciamo, dei modelli politico-costituzionali, Aristotele. In certo senso discostandosi da un concetto astratto, peraltro mai formulato apertamente nel mondo antico in realtà, secondo cui la democrazia sarebbe il governo della maggioranza. Questo è un concetto che viene usato quando è cominciata la lotta nell'otto-novecento per il suffragio universale. Allora è venuto in taglio il problema della maggioranza numerica. Ma nel mondo delle città greche, nel mondo antico, finché quei regimi hanno potuto esistere, dove l'impero romano ha mangiato tutto quanto e la cosa ha cambiato natura, non si trattava tanto di una maggioranza numerica, si trattava di un ceto al potere, un ceto sociale al potere, ovvero... Poi c'è un altro fenomeno, che cioè non c'è niente di più internazionalistico del classe dirigente. Le classi dirigenti si parlano e si sostengono a vicenda con un solidarismo che il sistema bancario ha reso perfetto, che manca completamente alle classi popolari. Invece il solidarismo delle classi dirigenti, in particolare del capitale finanziario, è veramente internazionalista nella maniera più piena, lo dico non tanto con ironia, ma con la constatazione di quanto le classi potenti siano capaci di capire i loro interessi, mentre gli altri spesso poi si lottano tra loro, si dividono. Allora, le attuali oligarchie hanno mano libera per dominare da centri molto vattati, molto tecnicamente attrezzati i destini di noi altri. Per dire, gli organismi centrali europei e accanto ad essi il Fondo Monetario Internazionale decidono di fatto le nostre vite, il destino delle nostre vite, attraverso l'economia, attraverso direttive potenti, irresistibili, che talvolta si traducono addirittura in modifiche alla Costituzione, come è successo col famoso pareggio di bilancio inserito nella Costituzione. Ecco, questa è un'oligarchia mondiale che ha mano libera nel decidere il nostro destino. Oggi siamo in situazione particolarmente delicata con la guerra in corso in Europa e anche qui vediamo scattare immediatamente una pronta reazione corale, ben coordinata, di alcune oligarchie che decidono cosa fare. Mi riferisco per esempio alle famose sanzioni che vengono scagliate prontamente. Non voglio entrare nel merito della loro liceità o meno, ma non vengono sottoposte neanche al varo dei parlamenti. Il Parlamento italiano, il Parlamento francese non sono stati interpellati se fare o no queste sanzioni. Più oligarchica di così una decisione non potrebbe essere. È un genere letterario quello degli articoli di giornale in cui si inveisce contro il cosiddetto complottismo. Ci sono tanti giornalisti che vengono arruolati apposta per svolgere questo concetto in versi o in prosa, in ottava rima. Sono uno stuolo arruolato per questo. Rispetto alla pretesa di vittoria planetaria ci fu anche un supplemento culturale nel dire che in fondo non poteva che andare così. La democrazia è un modello irresistibile che alla fine vince, un po' magari ignorando la storia della parola e delle vicende cui essa è connessa. E García Márquez reagiva a questa euforica raffigurazione della realtà dicendo che questa è una forma di fondamentalismo. Desumeva il termine dal fondamentalismo religioso, islamico in particolare. Per dire, ci siamo dimenticati forse che dopo l'attentato tremendo delle famose torri gemelle di New York, molta normativa sull'ordine pubblico negli Stati Uniti d'America diventò punitiva, di una durezza estrema, tanto da suscitare reazioni di ambienti diciamo liberal progressisti o semplicemente non allineati negli stessi Stati Uniti con molta dura reazione da parte del potere politico. Lo possiamo osservare adesso perché essendoci la guerra in Europa direi che la totalità degli strumenti di informazione non fa che additare come persone evitande le persone che sollevano qualche dubbio, che fanno delle osservazioni non del tutto in linea. Questo vuol dire che quel modello diciamo di tolleranza che viene ritenuto essere inerente alla democrazia si sta appannando anche nei nostri paesi, non soltanto negli Stati Uniti dopo l'attentato micidiale alle torri gemelle. Quindi anche questo elemento autocelebrativo ormai ha scarsa sostanza, scarsa corrispondenza nella realtà. Ma all'inizio dell'Ottocento, all'inizio del secolo XIX, e allora coloro i quali si erano schierati, avevano militato o simpatizzato con il giacobinismo, cominciarono a definirsi liberali e quindi nei parlamenti assolutamente elitari, per esempio della Francia della restaurazione, sia con Luigi XVIII che con Carlo X, erano liberali personaggi che riuscivano ad approdare comunque in Parlamento, in una camera molto discutibile dal punto di vista della rappresentanza, ed erano magari stati accanto a buona parte o addirittura impegnati nella fase precedente, quella diciamo termidoriana o del direttorio, i poveri giacobini di epoca robespierrista erano stati fatti fuori quasi tutti, quindi non era pensabile che approdassero nella cosiddetta Chambre Introuvable di Carlo X. Cioè la crisi economica del 2007 non è mai finita, quella crisi non si è mai chiusa. Le altre emergenze, va bene, quella sanitaria ha delle cause oggettive di tutt'altra provenienza, però è bastata ad offuscare il fenomeno altrettanto e forse più grave, cioè di una crisi che ha impoverito i ceti più deboli su scala planetaria e ha consentito scelte economiche penalizzanti sempre in nome di quella crisi che non si riesce a chiudere. Mentre l'Occidente, anche nei suoi punti forti come gli Stati Uniti, è alle prese con questo problema, il mondo avverso, diciamo così, cioè la Cina che è un continente praticamente, ha avuto una crescita fortissima anche sul piano, non solo economico, lo sappiamo benissimo, ma anche sul piano militare. Allora, alla crisi economica di cui 2007 è l'anno emblematico, si è aggiunta una preoccupazione fortissima da parte occidentale di bloccare in tempo questa tendenza storica al capovolgimento dei rapporti di forza. Quando Bush Junior diventa Presidente degli Stati Uniti, in realtà con un colpo di mano, perché la sua elezione fu contestata ed era un'operazione piuttosto truffaldina, quella che chiuse il conteggio, il riconteggio e portò alla proclamazione di Bush. Ma la prima cosa che lui fece fu di avviare le esercitazioni militari in vista della guerra contro la Cina nel 2016 o 13, adesso non ricordo l'anno fatale che era previsto. Segno abbastanza sintomatico del fatto che nel vertice del paese più militarizzato del mondo, cioè gli Stati Uniti, l'opzione militare nei confronti di una potenza ritenuta intollerabile nella sua crescita è un'opzione che non viene affatto scartata. A questo punto la crisi attuale si vede, si inquadra un po' meglio, nel senso che l'operazione è nata di estendere sistematicamente i confini dell'Alleanza arrivando sempre più a ridosso della Russia ormai ristretta geograficamente, che ha perso un sacco di pezzi dopo il 1991. È un'operazione che tende a che cosa? A dare all'Alleanza Atlantica, cioè gli Stati Uniti che ne sono il perno, una posizione militare sempre più forte in vista di un grande conflitto, che non è necessariamente con la Russia, che è una potenza nucleare temibile, ma molto minore come forza e come risorse rispetto alla Cina, che è il vero problema. Allora, da quella crisi economica che ha prodotto autoritarismo, repressione, militarizzazione, all'attuale situazione di preguerra, qui c'è un filo conduttore, un filo conduttore molto allarmante, dal quale non si viene fuori con la retorica, le democrazie contro le autocrazie, che sono stupidaggini, perché a questo punto queste parole sono parole vuote rispetto all'unico vero problema che è la volontà di potenza. Anche la Francia rivoluzionaria deve poi funzionare come potenza tra le potenze e questo spiega il fenomeno Bonaparte. Ma la stessa cosa è accaduta nel secolo XX nella trasformazione della vicenda sovietica da mondo alternativo rispetto a quello capitalistico, liberale, chiamiamolo come si pare, per il fatto stesso che la sopravvivenza di uno Stato tra gli Stati impone di comportarsi come potenza tra le potenze e quindi il patto di non aggressione con la Germania per rimanere fuori dalla guerra nel 39 e l'alleanza con paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per combattere colui che ti ha aggredito nonostante il patto di non aggressione. La stessa cosa può dirsi oggi rispetto alla realtà cinese che si è trasformata profondamente essa stessa rispetto alla lunga marcia o alla rivoluzione culturale maoista degli anni Sessanta. Ma resta per il mondo occidentale il nemico principale perché alla connotazione politica si è aggiunto e anzi diventa prevalente l'elemento potenza ostile. Quindi noi siamo di fronte a una situazione molto simile a quella per esempio del 1914 in cui le grandi potenze arrivano alla guerra, si accusano l'un l'altro naturalmente della responsabilità ma sono tutte corresponsabili.